User Conference 2017, siamo qui nello stand di Ivanti e sono qui con Stefano Sadella. Ciao Stefano, raccontaci un po' qualcosa sulla vostra tecnologia e come sta andando questa user conference. Certamente, Ivanti è un brand abbastanza nuovo nel mercato, infatti da 9 mesi è stato coniato questo nuovo termine derivante tra la fusione di Landesk e It Software. Landesk in realtà è un'azienda nota da oltre 25 anni nel settore, specializzata principalmente nella gestione degli end point. A questo, grazie a questa fusione, si è ampliato parecchio e adesso gestiamo tutta una parte di sicurezze, come per la prevenzione contro il ransom e la gestione dei privilegi di amministratore, oltre all'asset management e al service management, tutto in un'unica console per dare al cliente la possibilità di epurare e eliminare determinati vendor e avere un vendor unico e una console unica per gestire l'intera infrastruttura.